In caso di danno al veicolo provocato da una buca stradale, il guidatore può chiedere l'esarcimento del danno? A chi lo può chiedere e come? Ve lo spiego in termini di legge. Allora, rispondiamo subito che il guidatore sì può chiedere l'esarcimento del danno e lo può chiedere all'ente che è proprietario di quel tratto stradale, quindi può essere sia un ente privato che un ente pubblico. Nello specifico, il danneggiato deve inviare la richiesta di esarcimento o tramite raccomandata oppure tramite PEC. Nello specifico, la richiesta di esarcimento del danno deve contenere anzitutto la descrizione del fatto, poi le foto della buca, ancora i nominativi dei testimoni e le relative dichiarazioni e poi chiaramente deve anche contenere il preventivo o la fattura della riparazione del veicolo. Attenzione però, ricordiamo che il dritto al risarcimento si prescrive nei termini di due anni a partire dal giorno in cui è accaduto il fatto dannoso. Per maggiori informazioni, come sempre, continuate a seguirci su tutti i nostri canali social.